Sono Alberto Praze, amministratore della Praze Engineering e abbiamo ripetuto il grande successo che abbiamo avuto l'anno scorso, quindi abbiamo fatto uno stand per riprendere in pratica per mano tutti i nostri clienti, per parlare, per dialogare, per portarli dai nostri fornitori e fargli vedere tutte le novità di questo 2013. Abbiamo anche un altro stand che si chiama In Out, che è il nostro brand che costruisce macchine e le vende un po' in giro per il mondo. Con questo stiamo avendo un grande successo, il primo giorno di fiera abbiamo avuto più di 60 contatti, per noi è un grande successo per una piccola azienda che vuole imporsi sul mercato internazionale.